Il ballottaggio di Barletta si arricchisce di un nuovo tassello, sottoscritto domenica l'apparentamento tra Santa Scommegna e Carmine Doronzo con le liste del leader del terzo polo che andranno a sostenere la candidata del centrosinistra nel secondo turno del 26 giugno. Lunghe le consultazioni tra i due, con un ruolo fondamentale ricoperto anche da Michele Emiliano a Barletta nel weekend per accelerare le trattative tra le parti, Doronzo, ago della bilancia del ballottaggio, ha poi motivato sui social la decisione presa. La palla in mano la prendo io, io ho contattato la candidata Santa Scommegna e le ho chiesto di sottoscrivere i punti che io ho deciso di sottoporle e questi punti sono dei punti che mettono al primo posto il fatto che né io né tantomeno quelle forze politiche potranno chiedere delle poltrone perché semmai ci sarà un'amministrazione, sarà un'amministrazione con un'aggiunta di alto profilo, con professionisti, persone competenti, non presi dai bassi fondi della politica, persone competenti che dovranno andarsi ad occupare delle questioni specifiche, i tanti problemi risolti della città di Barletta. Forte il disappunto dei sostenitori di Cosimo Cannito con l'ex sindaco che sfiderà la scommegna nel ballottaggio di domenica prossima, il candidato del centrodestra che al primo turno ha ottenuto il 43% punta a rimanere in vantaggio pur dovendo considerare il 18% di Doronzo di una settimana fa con l'apparentamento dei due poli sottoscritto domenica, allo stesso Doronzo spetterebbero due seggi in più, quarto e caporusso, mentre la scommegna potrebbe perderne quattro di Cataldo, Rizzi, Mazzarisi e Salvemini. Cannito anche in caso di sconfitta accoglierebbe in consiglio comunale Flavio Basile, l'ultima settimana sarà decisiva per gli equilibri di Barletta.